abbiamo trovato dei soggetti perfetti ciao ragazzi benvenuti in questo nuovo video visto che avete particolarmente apprezzato il video di settimana scorsa con il confronto su lightroom tra show mi 13 pro e samsung s23 ultra lo metto qui da qualche parte e quindi ho deciso di riproporvi anche perché alcuni di voi me l'hanno proprio chiesto un confronto che secondo me ha più senso perché è proprio tra i due camera phone del momento tra i due smartphone e i due brand che hanno scelto di investire in una certa direzione per quanto riguarda il reparto camera sto parlando di show me 13 pro e vivo x 90 pro plus lo so mi avete chiesto alcuni di voi hanno chiesto il confronto con il modello global che è quello pro senza il plus e sappiamo che cambia l'hardware che c'è che c'è sopra però io ho avuto questo modello anche perché anche perché la persona da cui prendo gli smartphone è il punto di riferimento per chiunque voglia fare compra vendita di smartphone usati su roma e su tutto il territorio nazionale ovvero nando 75 anche questo video è sponsorizzato da lui nando ha usato di qualità vedete sempre nei miei video nei miei video lo stato la qualità degli smartphone che ho tra le mani e anche i modelli più particolari tant'è che lui ha molte anteprime tra cui questo x 90 pro plus che è un modello che in europa non c'è e che io ho potuto provare grazie a lui diverse settimane fa se volete acquistare un nuovo smartphone e intelligentemente volete rivolgervi al mercato dell'usato avete il vostro punto di riferimento io vi lascio il link qua sotto in descrizione voglio spostarmi subito nel confrontone sull'altro ho fatto delle sessioni di street separate con loro due e alla fine del video vi dico la mia proprio sul feeling che mi hanno restituito nel contesto della street fotografi non vi ricordo rapidamente che siamo di fronte a due hardware molto diversi a due brand che però hanno scelto di affidarsi e di collaborare pesantemente rispetto a quanto visto in passato con dei brand del mondo della fotografia nello specifico laica per quanto riguarda xiaomi e zaiz per quanto riguarda vivo collaborano in modo diverso laica ha fatto un lavoro più incentrato sul software ha co-ingegnerizzato le lenti insieme a shami ha fatto un lavoro molto pesante per quel che ho visto e per quel che ci hanno raccontato sul software e si vede parecchio però le lenti non sono effettivamente prodotte da laica e create nella sede di laica zaiz invece interviene in maniera anche hardware in maniera un invasiva perché vivo x90 pro è uno dei rari smartphone se non l'unico forse ad avere delle lenti interamente in vetro e ci hanno proprio parlato di questo trattamento che hanno fatto proprio sui vetri legato all'antiriflesso e alla gestione del flare e secondo me non solo per quanto riguarda poi la resa finale e adesso lo vedremo. Vivo x90 pro è più completo sotto il profilo delle ottiche vi metto qua in sovraimpressione il confronto tra quelli che sono i sensori e le focali disponibili molto interessante la presenza del 50 mm sul vivo reale che invece sullo shami non c'è anche perché il vivo gioca su dei diaframmi molto aperti e anche il 50 mm ha un diaframma di f1.6 che unito al sensore da poco meno di mezzo pollice la rende una focale molto particolare per quanto riguarda l'ambito smartphone e non da meno il 90 mm che si poggia su un sensore da mezzo pollice che è molto molto grande per questa focale rispetto sempre al mondo degli smartphone ed è periscopico cosa che invece sullo shami non abbiamo come tecnologia entrambi propongono il sensore da un pollice che adesso vedremo come gestiscono visto che l'ottica che poi si poggia davanti a questo sensore è molto differente prima di iniziare il confronto vi ricordo infine che per entrambi trovate sul mio canale dei video dedicati per lo shami addirittura più di un video dedicato forse quindi vi lascio il link in giro vi lascio il link in descrizione se volete approfondire avere un focus su questi due telefoni andate a vedervi i video dedicati allora mi faccio piccolo piccolo eccoci su lightroom iniziamo con la modalità automatica sensore principale foto quasi in controluce vediamo subito come due telefoni in automatico gestiscono lo scenario in maniera differente vivo un po come faceva s23 ultra tende a aprire un po di più sulle ombre a schiarire un po l'immagine in generale secondo me c'è proprio un lavoro di hdr qui che però sul vivo rispetto al samsung non ha quella fastidiosa cosa di essere iperinvasivo sempre presente quello che vediamo a schermo quando scattiamo è quello che poi corrisponde in galleria non viene applicata una post produzione in generale il vivo ha la tendenza a aprire un po di più lo scatto quindi qua secondo me va un po a gusti io preferisco sempre un contrasto un po più fedele è anche vero che su un file del genere anche se in peg ci possiamo lavorare per arrivare alla resa che ci dà lo sham in termini di atmosfera meno vero probabilmente il contrario ma vedere nel dettaglio però il sensorone da un pollice e la lente come lavorano e viene fuori subito secondo me è una grande differenza queste lenti di zeiss mi hanno abbastanza scioccato guardate qua ora al di là di quanto possa essere un caso legato al fatto che magari il vivo su questo scatto ha azzeccato di più il punto preciso di messa a fuoco e lo shomi no però secondo me considerando che questa parte dello scatto è a fuoco qui la differenza non la fa tanto quello siamo a parità di risoluzione veramente la medesima risoluzione 12 megapixel qua la differenza secondo me la fa la lente una mente molto molto più nitida che lavora meglio non con quella nitidezza estrema orribile che aveva il samsung s23 ultra che tirava tutti fuori tutti gli artefatti no quindi lì era una nitidezza data dal software qui è proprio restituita dalla qualità dei vetri secondo me e lavora meglio un diaframma più aperto che non è per niente scontato perché maggiore è l'apertura del diaframma sullo shomi a sinistra f 1.9 sul sul vivo a destra f 1.7 maggiori sono le difficoltà per la lente nel restituirci un'immagine nitida andiamo a vedere come questa cosa se questa cosa si riconferma anche sul teleobiettivo i due teleobiettivi che possiamo andare a paragonare sono i 75 mm per quanto riguarda lo shomi che vi ho messo qui a sinistra e il 90 mm che vi ho messo qui a destra per quanto riguarda il vivo qui noto diverse cose già di primo acchitto siamo sempre modalità automatica quadro più stretto sul vivo lo sfondo un po più chiuso la focale maggiore innanzitutto noto la gestione del flare che viene fuori da questa lavorazione probabilmente di queste lenti zeiss vediamo che qua il flare sullo shomi si palesa lo scatto è leggermente sbiadito andiamo a vedere in termini di dettaglio e anche qui notiamo al netto dello sbiadito che abbiamo per questo flare ma comunque mi soffermerei un secondo sul dettaglio della lente ricordo che anche in questo caso il sensore è un po più grande sul vivo i megapixel sono un po superiori sono 16 sul vivo contro i 12 dello shomi e questo unito a l'elemento fondamentale che secondo me rimane la lavorazione la qualità dei vetri dell'ottica del vivo che è pazzesca ci riporta a una riproduzione delle texture del dettaglio che è super super piacevole molto più nitida e pulita a vedere anche lo sfocato come viene gestito anche il bocchè secondo me è più piacevole sul vivo e privo di artefatti che invece qui un pochettino si palesano in aberrazioni cromatiche e strane cose che vengono fuori due teleobiettivi ottimi ma secondo me vivo è superiore ultra grande angolare sempre in modalità automatico quindi la 14 mm anche qui vediamo il software ormai se avete visto il video dell'altra volta l'avete capito xiaomi e like hanno fatto un lavoro che tende a preservare le alte luci a non snaturare troppo l'atmosfera e a chiudere le ombre può piacere può non piacere io trovo la resa degli scatti dello shami molto naturale mentre la presa degli scatti di smartphone come iphone il samsung che abbiamo visto questo vivo molto da smartphone quindi assolutamente può funzionare può essere piacevole ma tende un po a distruggere l'atmosfera avete quale ombre sono quasi assente e assenti eppure dovrebbero esserci perché abbiamo il sole che da queste nuove le emerge il colpo di luce sul nostro personaggio questa non è una situazione dovuta a una gamma dinamica maggiore comprendo chi magari preferisce avere uno scatto fatto e finito pronto sul punto e scatta come quello del vivo andiamo a vedere in termini di dettaglio ma come vi accennavo anche per il samsung queste ultragrandangolari sono tutte uguali al netto di tutto non trovo grandissime differenze sotto nessun punto di vista è riuscito il vivo a preservare un po di più le alte luci entrambe hanno sofferto di un flare anche se in maniera differente giudicate voi qui destra il vivo con il trattamento di zeiss a sinistra lo shami 13 pro entrambi abbastanza orribili qualche aberrazione cromatica in più sul vivo e forse riguardandoli nessuno dei due scatti mi fa impazzire andiamo a vedere qui un confronto un po più esplicito per quanto riguarda la gestione del flare che mi ha un po lasciato così incerto perché a destra c'è il vivo e tutto questo grande lavoro di zeiss quantomeno in questa situazione che comprendo essere molto estrema abbiamo proprio il sole in campo quasi dritto per dritto alla nostra ottica sono tutto sommato molto simili sullo shami è un po più netto il flare sul vivo è un po più sfumato non saprei dire quali dei due più piacevoli piacevole visto che entrambi sono abbastanza brutti andiamo a vedere proprio sul colpo di luce vi mostro la differenza sempre un po più qualche aberrazione in più secondo me sul vivo guardate qua sul bordo dei rami tutto sommato la resa più morbida dello shami alla fine qualche vantaggio lo porta sempre questo è il sensore principale a 12 megapixel andiamo a vedere anche qui la riproduzione delle texture che prima era nettamente in vantaggio di vivo continua a essere secondo me a vantaggio di vivo shami ha proprio una resa molto più morbida ma in questo caso meno piacevole del vivo perché si vede che la maggior nitidezza è ottenuta in maniera naturale e quindi grazie alla qualità della lente lo rivedo ancora quindi possiamo confermare questa cosa sono proprio contento di questa casistica così quello che vi dicevo sul video in confronto col samsung s23 ultra ora vi risulta ancora più chiaro di quella nitidezza fake che molti smartphone tirano fuori che spesso ingannano anche i recensori o comunque anche noi tutti nel valutare la qualità effettiva degli smartphone perché se andate a vedere il video sul samsung si otteneva uno scatto che era tanto più nitido quanto più brutto rispetto a quello di shami qui invece che siamo di fronte a una nitidezza così piacevole vera emerge subito il vantaggio nei confronti dello shami 13 pro quindi grandissimo lavoro di entrambi ma soprattutto di vivo che qui sta proprio un passo avanti ok passiamo al primo file raw e vediamo la lavorabilità andiamo a vedere sul recupero qui veramente estremissimo partiamo dal vivo proviamo ad alzare un po ok ecco i due file raw lavorati più o meno allo stesso modo mamma mia che lavorabilità da entrambe le parti vi faccio rivedere come era il file iniziale ok questa roba qui il samsung s23 ultra l'abbiamo visto se la sogna ad esempio se poi volete ci facciamo anche un confrontino con l'iphone fatemelo sapere nei commenti ma secondo me il risultato è abbastanza scontato davanti a questi file vi ricordo che sullo shami 13 pro abbiamo un file raw 10 bit con profilo adobe e tra l'altro lightroom vi faccio vedere vi va proprio a riconoscere in automatico che adesso sono sul vivo questo è il vivo e non viene riconosciuto se passo allo scatto di shami ecco qui che subito vi va fatti a riconoscere e quindi questo ha tutta una serie di vantaggi all'interno del mondo adobe e di lightroom nello specifico con il vivo questo non accade ma anche vivo tira fuori dei file raw 10 bit ci sono delle differenze ovvie dovute alla lente diversa quindi all'interpretazione anche del file raw diversa il sensore però grossomodo è lo stesso il sensore è lo stesso la lavorabilità dei file è assolutamente impressionante da entrambe le parti e ai vertici assoluti di questo settore andiamo a riconfrontare i teleobiettivi questa volta però in raw file de lo shami sempre un po più chiuso sulle ombre forse ora che comincio a vederne tanti in confronto un po estrema questa cosa che può facilmente ricadere nella percezione di una gamma dinamica più più ridotta quando in realtà poi abbiamo visto spesso che non è così andiamo a vedere anche in questo caso stavolta siamo su due sensori diversi due risoluzioni diverse due focali diverse e ovviamente quindi due lenti differenti vediamo subito la lavorabilità anche se qua insomma è uno scatto con una luce abbastanza diffusa abbastanza piatta però se vado a recuperare sulle alte luci un po di nuvole con grande piacevolezza sul vivo viene fuori subito del dettaglio e non ho dubbi eccolo lì anche sullo shami apriamo un po lo scatto sullo shami per allinearlo a quello del vivo e vediamo in termini di dettaglio e qui eccoci qua di nuovo lavoro di zeiss e di vivo è semplicemente pazzesco su una focale più lunga quindi anche più difficile troviamo un sensore più grande perché abbiamo mezzo pollice di qua mentre qui siamo più vicini a un terzo di pollice sullo shami e il livello di dettaglio è molto molto superiore di dettaglio ripeto reale guardate qua scatto fatto quasi nel medesimo momento giudicate voi ok andiamo a vedere questo scatto fatto con l'ottica principale col 24 millimetri che poi in realtà sullo shami è un 23 sul vivo è un 24 ho fatto notare questo scatto un po estremo no siamo al limite della messa a fuoco della distanza minima che c'è un po di vignettatura almeno in questo caso abbastanza pesante sullo shami in altre tipologie di scatto non si nota più di tanto qui mi sembra che al netto delle ombre più chiuse che lo shami ci propone sempre ci sia proprio un po di vignettatura la messa a fuoco minima è sempre un po un punto critico per gli smartphone succedono cose strane la lente lavora in maniera strana si creano degli sfocati circolari un po poco piacevoli e forse in questo caso la gestisce un po meglio lo shami proviamo a recuperare un po sullo shami piace sempre molto la calibrazione dei colori dello shami focato un po più piacevole sul vivo complice probabilmente anche il diaframma più aperto lo trovo proprio un po più interessante come come bokeh al di là del livello di sfocato mi sembra che questa lente proponga qualcosa di un po più interessante e a livello di dettaglio su uno scatto così macro un po estremo le differenze fanno un po più fatica a venire fuori infatti mi sembrano ottimi ed equiparabili mi lancio nei commenti finali nel mio parere e anche in una valutazione della mia esperienza legata alle sessioni di street che ho fatto con loro prima però vi ricordo che se questi contenuti vi sono utili mi potete aiutare e sostenere con un semplice like se vi va seguendomi per non perdere i prossimi video se volete lasciare un commento lasciatelo vi rispondo sempre e mi trovate anche su instagram su tiktok e a proposito di lightroom anche sul mio sito www.vincenzodecaro.com dove trovate dei preset a soli 5 euro pensati esclusivamente per scatti da smartphone funzionanti sia su android che su ios sia su lightroom mobile che su lightroom desktop siamo di fronte per quel che mi riguarda ai due camera phone del momento almeno per quelle che sono le mie priorità una su tutte la lavorabilità dei file assolutamente pazzesca per quanto riguarda il sensore principale in raw ma anche il teleobiettivo che è la seconda motivazione che mi porta a posizionarli diciamo un po in cima alla piramide grande lavorabilità di entrambi i sensori che montano poi il teleobiettivo qualità delle lenti superiore sul vivo questo emerge parecchio anche nonostante lo show me l'abbiamo visto negli scatti che vi ho proposto in queste settimane nel confronto con il samsung s23 ultra abbia portato una qualità d'immagine una taratura dei colori una anche piacevolezza no una ricerca un po una ricerca che ha fatto sicuramente laica nell'ottenere una pasta più gradevole un livello di dettaglio più giusto una resa un po più morbida rispetto a ciò a cui ci abitua il panorama degli smartphone di solito ecco messo di fianco a questo vivo crolla un po tutto perché abbiamo uno step in più sulle lenti ve ne ho parlato tante volte di quanto è importante no la lente più importante addirittura del sensore spesso equizize ha fatto la differenza Xiaomi si porta a casa il vantaggio secondo me di un software un po più piacevole sempre per quelle che sono le mie priorità specialmente in modalità automatica specialmente parlandovi delle mie sessioni di street photography sono questi profili laica che mi piacciono davvero tanto anche il vivo propone dei profili di zeiss che però non è che mi piacciono meno non mi sono proprio piaciuti invece come calibrazione in generale li potete vedere nel video focus che ho fatto di entrambi e in più Xiaomi mantiene quel vantaggio netto che aveva anche sul Samsung nella velocità di scatto la velocità di scatto la risposta dell'otturatore rimane per ora un vantaggio pazzesco di questo Xiaomi 13 pro è la stessa che avevo riscontrato nel 12s ultra mentre il vivo è un po più lento questo in tutte le modalità che sia automatico o che sia in modalità pro con il loro attivo spero che questo video vi sia stato utile ovviamente so che avreste voluto vedere la versione global perché l'X90 pro plus si porta il grosso svantaggio di non essere disponibile in Europa ma se vi interessa la fotografia su smartphone a livello professionale o siete particolarmente appassionati so che questo è un gradino secondo me come dire superabile abbastanza facilmente per questo video è tutto se volete altri confronti fatemelo sapere nei commenti e noi ci vediamo alla prossima